Vi siete mai chiesti come sono i mouse da gaming dei cinesi? Io siete per questo che l'altro giorno sono andato dai cinesi e ho comprato ogni singolo mouse che avevano E ho speso ben 116 euro Io non so chi altro abbia mai speso così tanto dai cinesi E' un mouse da 3,99 euro, da 5 euro, da 6 euro E' un mouse della Trust Vero Tutti con sensori che fanno schifo e fanno quello che vogliono Ma il mouse più bello di tutti è stato questo mouse tartaruga No, micidiale Se vuoi vederti tutto quello che è successo vai sul mio canale YouTube a vederti il video E' proprio quello che ci vuole